un altro sistema è quello di utilizzare per esempio l'assemble se andiamo a vedere questo esempio qui in questo esempio abbiamo un copy stamp dove nel quale anche in questo caso qua possiamo creare un packet geometry oppure possiamo creare un SOP di assemble il quale ci va a creare un, possiamo dire di creare un packet geometry e di creare anche un attributo per questo elemento di default lui inserisce questi per i due gruppi crea due gruppi inside e output come pieces difatti vediamo che abbiamo il nostro output preface come create attribute name troviamo un pieces dal nostro geometry spreadsheet infatti vediamo che sono tutti i vari pezzi che possiamo avere oppure posso chiamare anche un attribute name fracture cluster ma questi sono più per il mondo diciamo delle fratture posso anche non creare il nome del mio elemento il nome dell'attributo ma posso creare volendo un gruppo quindi potrei creare i gruppi o gli attributi gli attributi io qui lo posso chiamare per esempio tipot e vedrò che avrò tutte le tipot in base al numero di geometrie che avrò qui in scena ok quindi dipende da quante copie ho realizzato avrò le varie geometrie ovviamente sono una per ogni vertice poiché abbiamo una geometria e una geometria guida sulla quale viene creata una copia e quindi abbiamo queste qui e qui abbiamo i vari elementi notiamo che se vado a vedere le informazioni avrò in questo caso qui chiama packet fragment e i vari punti infatti sono molti più punti quindi questo è un altro sistema che solitamente però si utilizza tantissimo per appunto le fratture quindi poter andare a generare anche un assemble un nodo di assemble per poter generare questo packet geometry questi sono diciamo i tre metodi con i quali possiamo andare a generare vari tipologie di assemble e di packet geometry per poter lavorare all'interno di Udemy è fondamentale andare a creare un packet geometry appunto perché quando andremo a creare una simulazione se avremo più di una geometria che viene considerata separata sarà più gestibile rispetto che avere ogni singola geometria da dover unire